salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi andremo ad unboxare un pacchettino che mi è arrivato proprio stamane e voglio vedere insieme a voi di cosa si tratta e andiamo a scoprire appunto di cosa si tratta e cosa si cene in questo pacchettino prima di tutto però vi ricordo sempre potete andare a supportare il mio canale iscrivendovi mettendo un bel mi piace e commentando questo video proprio qui sotto come sempre iniziamo ogni video con la nostra sigla eccoci qua ragazzi il pacchettino in questione è questo qui non so ancora cosa si cella all'interno però voglio fare questo unboxing con voi così oggi mi va di fare questo unboxing con voi andiamo ad aprire cosa ci sarà all'interno questo sembra un cofanetto dopo andiamo a vedere cosa c'è all'interno c'è una busta c'è delle carte una specie di gift card ah ok allora me lo manda daniel philip daniel philip questa è una credit card da 20 euro che utilizzerò sicuramente questo è tutto il testo che mi hanno scritto dopo lo leggerò ok adesso apriamo il pacchettino che in realtà ragazzi adesso andiamo ad aprire il pacchettino e vi faccio vedere appunto cosa c'è all'interno andiamo ragazzi allora eccoci qua ragazzuoli adesso andiamo ad aprire questo fantastico pacchettino che ci siamo andato a quanto pare la daniel philips la daniel philip ecco qua togliamo il pluriball cofanetto devo dire molto carino allora vi devo rivelare la verità io ho fatto appunto una collaborazione con questa azienda che si chiama daniel philip che appunto mi ha dato mi ha mandato questo prodotto che adesso scoprirete di cosa si tratta è un prodotto che vi rivelo già essere di grande qualità è un prodotto di alto livello e che appunto potete andare ad acquistare comodamente nel link che vi metterò in descrizione tra cui troverete anche un buono sconto tramite appunto il mio codice amico ora vi faccio vedere cosa continua questo cofanetto tantantanta guardate qui ragazzi c'è tanta roba ecco qui andiamo a messo al contrario cioè di cosa stiamo parlando un fantastico orologio minimal perché lo stile diciamo è molto minimal, essential, guardate molto carino il quadrante, molto appunto essenziale, non troppo grande che appunto non disturba l'utilizzo mentre nell'utilizzo quotidiano, il cinturino è un cinturino appunto molto essenziale in materiale in cuoio, si sente molto la qualità e diciamo che è un orologio molto ben fatto, adesso ve lo metto un po' a fuoco, eccolo qui, è un orologio al quarzo quindi non è appunto un orologio digitale e richiama un po' appunto l'essenzialità, molto sottile vedete, metto anche a fuoco anche qui è semi resistente alla spruzzi d'acqua però consiglio sempre di non immergerlo all'interno di pozzanghere d'acqua naturalmente come vi consiglia il buon senso però è un orologio davvero molto molto bello sia a livello estetico che a livello appunto del cinturino e anche a livello del quadrante appoggiamo un attimo qua il nostro orologio perché come vedete nella confezione l'azienda Daniel Philip ha voluto fare anche un altro regalo ovvero questo magnifico braccialetto con queste perle diciamo in semilegno con questa perlina e appunto finto color perla molto carino questo braccialetto anche da indossare così molto molto simpatico sia per per uomini che per per donne secondo me è un regalino davvero davvero molto elegante attenzione a non romperlo anche molto resistente in quanto l'ho aperto e l'ho chiuso e mi è sembrato molto resistente cioè è fatto molto bene adesso tenendolo in mano si sente proprio la qualità e la solidità di questo braccialetto ma adesso vi faccio vedere appunto vi giro la telecamera e appunto ve lo indosso questo orologio e vi faccio vedere com'è andiamo ragazzi allora eccoci qua ragazzi eccolo qui l'orologino della Daniel Philip è un orologio appunto come vi ho detto di eh di qualità elevata guardate molto molto carino a livello estetico adesso provo un attimo a indossarlo e vi faccio vi dico un attimo la la sensazione e la comodità che si che si prova intanto molto comodo da indossare diciamo che vabbè il cuoio finché non si non si adatta è un po' rigido però ecco qui davvero davvero di qualità molto leggero non si sente nemmeno qui vabbè abbiamo il tastino per regolare i minuti e le ore come al solito molto carino il vetro è di buona qualità e il quadrante mi piace moltissimo davvero bello anche il braccialetto è molto carino credo che lo indosserò qualche volta davvero carino anche questo quindi doppio regalo molto molto gradito anche la scatolina molto molto carina ha fatto molto bene e devo dire che non mi è dispiaciuto questo dono della Daniel Philip come come azienda di orologi e vi invito ad andare a vedere il loro sito in cui troverete non solo questo orologio minimal ma altre tipologie di orologi molto molto carini adesso vi faccio vedere un attimo più nel dettaglio questo orologio e valutate voi se comprarlo o meno andiamo ragazzi eccolo qui ragazzi guardate molto molto fatto molto bene vedete la parte di chiusura è fatta in acciaio quindi molto molto bene allora l'orologio è interamente in acciaio e cuoio e il quadrante è veramente molto bello minimal con queste lancette molto sottili davvero davvero molto bello poi abbinato a questo braccialetto è davvero il top secondo me davvero molto bello un regalo davvero gradito da parte della Daniel Philip secondo me è un acquisto che tutti possono fare e appunto non costando molto per la qualità che che offre questo orologio è un prodotto che sicuramente fa comodo a tante persone è un orologio che può essere indossato durante le occasioni ma può essere anche indossato durante la giornata lavorativa quindi molto molto bene molto buono da questo punto di vista ecco insomma avete visto un po' questo unboxing che è stato un po' una finta sorpresa perché sapevo un po' il prodotto che mi arrivava però ho voluto fare un po' di suspense per voi quindi un prodotto davvero valido di qualità e secondo me davvero comodo per essere indossato anche durante la giornata lavorativa quindi è molto 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 bello questo orologio della Daniel Philip grazie ancora, ringrazio ancora l'azienda Daniel Philip per la collaborazione invito anche voi che state guardando questo video se volete supportare il canale, iscrivervi, mettere un bel mi piace e commentare questo video vi ricordo che potete acquistare questo orologio del Daniel Philip nel link che lascerò qui sotto dove lascerò anche un codice pronto per avere uno sconto davvero interessante a questo punto possiamo finire questa recensione ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao 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 ciao